da segnalare un fatto non proprio dei più piacevoli infatti pensate che un autobus sarebbe andato a fuoco a Roma precisamente su via Appia, all'altezza di piazza Cantù sul posto sono arrivate le battuglie del gruppo Appio della polizia locale ma anche i vigili del fuoco per fortuna al momento non si registrano feriti l'autobus sarebbe stato il 671 sembrerebbe che all'interno dell'autobus c'erano presenti solo due passeggeri che per fortuna non sono rimasti feriti si ipotizzerebbe che l'incendio sarebbe divampato nella parte di dietro del mezzo in questione presente in loco anche il dirigente del gruppo Appio della polizia locale che si sarebbe ritrovato nelle vicinanze ed è subito intervenuto prontamente vi ringrazio per l'ascolto l'autobus sarebbe stato immatricolato nell'anno 2004 in servizio da ben 15 anni di tempo questo secondo ciò che informa l'azienda di trasporti Capitolina per eccellenza fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi se vi va commentate, datemi il vostro parere mi raccomando ci tengono a averlo un caro saluto a voi al prossimo video da Leandro provare a suonare a tuoi da lei